Ehi tu, vuoi rimanere sempre aggiornato sui video di questo canale? Beh allora premi la campanella per i giorni ogni giorno i feed e se desideri contenuti esclusivi passa anche da Instagram e da Facebook che trovi in descrizione. Buona visione! Raga c'ho le crisi esistenziali, sono una forma lol o sono uno shiny? Cioè scusatemi. Minchia complimenti siete riusciti a farmi più tossico di quanto già non fossi, cioè applausi? Mmm chissà come quella netta sensazione che prima di essere un fossile io non fossi proprio una civice. Mi sa che lo scienziato dell'isola a cannella non ci ha visto proprio giusto eh? Oh, you touch my ta-la-la. Mmm, my ding-ding-dong. Dai cioè ma io dovrei spaventare le persone, sono grande, grosso e cattivo e poi sono rosa. Dai! Dai! No, no, no! Non solo una fusione con un Charizard, vi prego! Raga se vi sembra normale che io diventi un'anguria nella forma shiny fatemi sapere, cioè, 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 non lo so. Cazzo, cazzo ma questo è stato un po' chicchio. Raga nascondite il cadavere. Nascondite il cadavere. Nascondite il cadavere. Cazzo, non... Sti cadaveri di merda. Cazzo, eppure strano, cioè, non ricordo di essere morto, di essere diventato un fantasma improvvisamente. Ma lo sai che mi stavo chiedendo esattamente la stessa identica cosa? Mamma, mamma, vorrei uno shiny semplice ma decisamente invitante che possa coniugare la mia voglia di bellezza e austerità. Ma non esiste uno shiny così, cara. Posso un minimo colpirmi se esiste. Cazzo, 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 cazzo.